Adesso interverrà un amico e un fratello, Luigi Di Maio, io mi onoro di lavorare ogni giorno con lui insieme a Nunzia Catalfo che è la prima firmataria della legge sul reddito di cittadinanza che è in discussione attualmente al Senato Nunzia Catalfo e Luigi Di Maio Buonasera, grazie a tutti di essere qui L'affare Mafia Capitale ci ha dimostrato che la mafia in Italia è un sistema politico criminale in cui se non esistessero i politici corrotti la mafia morirebbe di fame il sistema che esiste attualmente in Italia non si nutre dei politici corrotti la mafia è i politici corrotti che con le vostre tasse truccano gare d'appalto per trasferire fondi pubblici ad organizzazioni criminali questo è il sistema mafioso e quando pensiamo alla mafia pensiamo prima di tutto alla politica corrotta di mafia capitale che ha colpito tutti i partiti, tutte le forze politiche tranne il Movimento 5 Stelle ricordiamocelo sempre pensiamo a questo sistema mafioso dobbiamo pensare a qual è la cosa di cui si nutre questo sistema sfrutta il dramma di oltre 10 milioni di italiani di cui sei in povertà assoluta quel dramma è la miseria uno Stato coraggioso che vuole combattere i sistemi mafiosi deve avere il coraggio di dichiarare illegale la povertà e per farlo deve utilizzare degli strumenti che esistono in tutto il mondo tra cui il reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza è uno strumento molto discusso ma a noi serve stasera a me e non sia Catalfo che è la prima firmataria della nostra proposta di legge per spiegarvi la visione dell'Italia che vogliamo creare la visione dell'Italia 5 Stelle che stiamo immaginando e anche dall'opposizione stiamo iniziando a realizzare ed è per questo che stasera con molto piacere cedo una parte del mio intervento ad un racconto che farà Nunzia che è appunto la persona che insieme a tanti altri parlamentari hanno messo a punto la nostra proposta per migliorare il benessere dei cittadini italiani e dichiarare finalmente illegale la povertà in questo paese Signori Nunzia Catalfo, senatrice del Movimento 5 Stelle